Musica Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa la chiesa nella città. Sono giorni intensissimi questi, lo sappiamo, ci prepariamo ad accogliere il cardinale Angelo Scola come nuovo arcivescovo di Milano. E allora iniziamo subito dalle immagini della consegna da parte di Benedetto XVI del Paglio all'arcivescovo di Milano. Avvenuta nel corso di un'udenza privata a Castel Gandolfo, erano presenti tutti i vescovi ausiliari della nostra diocesi. E il Papa nell'incontro, come ci ha detto il vicario generale Monsignore Daelli, questo incontro è stato molto cordiale, il Papa ha ricordato Milano che è città dell'economia, dell'industria, ma in cui è fondamentale, ha detto Papa Ratzinger, riproporre il primato di Dio. E il cardinale Scola che stiamo proprio vedendo in questo momento con il Paglio ha richiamato dal canto suo l'incontro mondiale delle famiglie del 2012. La consegna del Paglio è avvenuta in un giorno particolarmente significativo per il cardinale Scola, infatti era il ventesimo anniversario della sua ordinazione episcopale. Fu infatti consacrato il 21 settembre del 1991 ad opera del cardinale Bernardin Ganten. E allora noi però vogliamo scoprire che cosa sia il Paglio che letteralmente dal latino significa mantello di lana. Spieghiamo che cos'è il Paglio, che è quella striscia di lana bianca con delle croci nere che viene imposta sulle spalle degli arcivescovi metropoliti, cioè di quei vescovi che sono a capo delle chiese più importanti che hanno praticamente sotto di loro altre diocesi più piccole che vengono chiamate in termine tecnico diocesi suffragane. E proprio per questo il Paglio ha un doppio significato. Il significato dell'autorità metropolitica dell'arcivescovo e quindi identifica in primo luogo coloro che hanno questo titolo, il titolo di arcivescovo metropolita. Ma soprattutto il Paglio vuole indicare che vi è un rapporto stretto con la sede di Pietro e infatti gli arcivescovi sono tenuti a recarsi a Roma a chiedere e a ottenere il Paglio dal Santo Padre, proprio per indicare il loro rapporto di comunione con la sede Petrina. Dunque un segno che da un lato rimanda all'autorità metropolitica degli arcivescovi, ma dall'altro ricorda che nella Chiesa ha il servizio dell'autorità e sempre un servizio di comunione con colui che ha appunto il carisma della comunione di tutte le Chiese con la sede di Pietro. E ci sembra particolarmente bello sottolineare ancora una volta le parole con cui il Cardinale Scola ha chiesto al Santo Padre durante la consegna del Paglio. Che cos'ha nel cuore santità per Milano? Qual è la cosa più importante per noi? E allora parliamo dell'ingresso del Cardinale che avverrà come ormai certamente saprete domenica 25 settembre, ingresso solenne in diocesi. L'ingresso partirà da Malgrate in provincia di Lecco che è la città natale del Cardinale Scola alle ore 14.30 e poi a Milano dalla Basilica di Santo Storgio come tradizione per gli arcivescovi di Milano e saranno le ore 16 e poi il pontificale solenne di ingresso naturalmente in Duomo dalle ore 17. Al di là del grande fondamentale evento di cui abbiamo parlato di questo ingresso, l'attività comunque ordinaria di una diocesi grande come la nostra naturalmente non si ferma. E allora come sempre all'inizio dell'anno pastorale un appuntamento importante è quello della quattro giorni catechisti e noi abbiamo chiesto quali sono stati gli obiettivi di questa quattro giorni 2011 che ci si era prefissi e che si sono raggiunti nel servizio. L'obiettivo quello generale è quello di aiutare i catechisti a entrare nell'anno pastorale che appena abbiamo iniziato anche con la presenza ormai del nuovo arcivescovo Angelo Scola. Ma anche il secondo obiettivo, quel più specifico di quest'anno, è quello di aiutare i nostri catechisti a entrare in quella sintonia con un percorso diocesano che vedrà poi il suo compimento con l'appuntamento mondiale delle famiglie nel 2012. Ecco proprio il settimo incontro mondiale delle famiglie ha in qualche modo innervato e illuminato questa quattro giorni catechistici, si proietta e si vuole un laicato consapevole, genitori, famiglie consapevoli. Un catechista o una catechista non possono prescindere da quelli che sono le relazioni familiari e queste relazioni familiari oggi vengono profondamente toccate anche dal ritmo di vita e anche dai desideri che attraversano appunto le famiglie. Penso in modo particolare la capacità di vivere il momento del riposo, della festa ma anche di sapere assumere perché no la responsabilità del lavoro quotidiano. Cosa vuol dire questo in ambito appunto di un annuncio del Vangelo quindi dentro quello che in fondo è un accompagnamento delle giovani generazioni in una introduzione appunto alla vita cristiana. Ecco questo era un po' l'obiettivo della quattro giorni. Di centrale importanza per tutti coloro che vivono la fede, il messaggio, della missionarietà e si occupano della formazione è ovviamente la parola di Dio, lo abbiamo compreso anche dall'intervista precedente. Tra le iniziative più seguite e fortunate c'è la scuola biblica nella città al centro di Milano. Ebbene non mancano però anche tante proposte locali, noi siamo andati un po' a capire questa scuola biblica e cosa si fa nel territorio. Il primo ciclo che prende via il prossimo lunedì 26 settembre è dedicato al libro di Gioppe. Il secondo ciclo che inizierà con il mese di gennaio è dedicato alle lettere ai Colossesi e agli Efesini. Questo è proprio il stile con il programma che prevede che nell'arco di un triennio venga percorso un po' il canone biblico. Nelle sue diverse parti, Torah, libri profetici, testi sapienziali e il Nuovo Testamento nelle sue parti Vangeli, lettere di Paolo e le altre lettere, cosiddette Teutolo Paoline, pastorali e cattoliche compresa l'Apocalisse. Il territorio come risponde? Beh, anzitutto diciamo che anche a questa iniziativa di Vertice una risposta è stata buona, ecco anche se vuoi qui le statistiche sono sempre relative, perché lo scorso anno usciavamo tra i 260-270 iscritti. È chiaro che però la diocesi è vasta e per questo sono presenti sul territorio altre iniziative molto interessanti, direi di livello. Penso una scuola biblica nella zona settima, quindi Sesto San Giovanni, poi penso quei corsi biblici che da anni vengono fatti nell'abbazia di Sasseregno e penso anche a corsi scuole bibliche, mi pare denominate proprio scuola di sacra scrittura che vengono fatte dai padri oblati di Ro, sono tutte iniziative di livello decisamente. Nelle prospettive c'è, accanto ovviamente all'iniziativa che riguarda i gruppi di ascolto e alla preparazione degli animatori di gruppi di ascolto che avviene in 15-16 sedi della diocesi, una prospettiva dovrebbe essere questa di riuscire a far nascere dei diversi decanati della diocesi o insieme di decanati della diocesi degli itinerari biblici, di sette incontri su un libro proprio nella commissione, che sia fondamentale per gli operatori pastorali, parlo di catechisti, animatori di gruppi di ascolto, anche animatori liturgici, una formazione biblica. Bene, io vi voglio ricordare che la scuola biblica nella città di Milano inizierà lunedì 26 settembre alle ore 19 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore con una prolusione di Don Luca Mazzinghi, che è sacerdote della diocesi di Firenze, presidente dell'Associazione Biblica Italiana. Noi lo seguiremo e ve ne renderemo conto. Ma torniamo all'ingresso del Cardinal Scola perché vi vogliamo segnalare le dirette con un grosso impegno della nostra emittente. Infatti domenica 25 settembre, proprio per l'ingresso in diocesi del nuovo arcivescovo, avremo la diretta su Telenova News, che è sul canale 664 del Digitale Terrestre. Questa diretta partirà alle 13.30 e proseguirà fino a serata, lo vedete alle ore 21. Ebbene alle 17 ci sarà il collegamento dal Duomo, ma saremo anche a Malgrate, saremo a Sant'Eustorgio e anche in studio con ospiti, approfondimenti, servizi, insomma tutto per saperne di più e per vivere insieme questo giorno così centrale per la vita della nostra Chiesa. Ora ci lasciamo per la pubblicità, due minuti, ma restate con noi perché torneremo insieme ancora con tanti servizi. Ben ritrovati con la Chiesa nella città, parliamo ora di dialogo che sappiamo è un tema carissimo e nel cuore del nuovo arcivescovo che d'altra parte arriva a Milano da Venezia, terra storicamente di confronto tra l'Oriente e l'Occidente. Ebbene a Milano adesso andiamo nel centro della città ma in una tenda del silenzio e partiamo proprio dal capire perché ci si reca in una tenda a fare silenzio. Io sono uscito apposta prima dall'ufficio, per me è un appuntamento fisso e credo per me è importante un momento in cui il silenzio viene valorizzato proprio come silenzio e quindi non necessariamente per qualcuno come preghiera, per altri come riflessione, per altri altro ancora ma veramente soltanto come silenzio. C'è chi arriva dal lavoro, chi ha aspettato fin dalla mattina di poter vivere un momento di riflessione, introspezione e di silenzio. Sì, quello rarissimo nelle nostre città, specie in uno dei luoghi simbolo della movida milanese, le colonne di San Lorenzo. Eppure la tenda del silenzio è proprio lì ed è stata montata anche quest'anno da tante articolazioni ecclesiali della società civile che per la decima volta hanno promosso l'iniziativa di una due giorni per ricordare l'incontro di preghiera per la pace del 1986 voluto da Giovanni Paolo II. In questo 2011, a 25 anni dalla preghiera di Assisi e a 10 dall'attentato alle Torri Gemelle, la tenda ha avuto come emblematico titolo dialogo non guerra. Il significato principale è quello di cercare attraverso il silenzio di trovare vie di dialogo con persone che per motivi culturali, religiosi eccetera possono avere invece delle difficoltà a dialogare, quindi questo è il primo significato. Il secondo è sicuramente quello di dire una parola chiara e forte contro la guerra e contro gli armamenti, il sistema degli armamenti, la costruzione di queste armi che sottrae risorse fondamentali per risolvere problemi grandi che ci sono nel mondo, basta pensare alla situazione della Somalia attualmente. Un appello, quello alla pace, sottolineato con il silenzio, che unisce tutti. Faccio un paragone, la musica è l'importanza dei silenzi nella musica, io amo il jazz, pensiamo a Miles Davis, le poche note, il silenzio dà valore alla nota e allora così anche le parole io dico, se riuscissimo a fare più silenzio magari poi anche la parola acquista valore. L'idea del silenzio a volte ci spaventa un po' il motivo per cui facciamo tutto questo rumore che probabilmente si sentirà anche di sottofondo e quindi mi piaceva questa idea di un silenzio che non deve per forza fare paura ma che è bello per ascoltare gli altri. Torniamo idealmente all'entrata in diocesi del Cardinale Scola perché sono quattro gli incontri che l'Arcivescovo considera inscindibilmente legati al suo ingresso solenne. Il primo è per martedì 27 settembre alle ore 18 presso l'Istituto Sacra Famiglia che si trova in piazza Monsignor Moneta 1 a Cesano Boscone alle porte di Milano. Ebbene l'Arcivescovo Scola incontrerà il mondo della fragilità. Abbiamo detto e lo abbiamo visto nel servizio precedente confronto anche laico ma naturalmente confronto tra le religioni anzitutto le tre grandi monoteiste. A Milano presso la sala consigliare della provincia si è svolto un incontro importante promosso dal GEX che è il gruppo ecumenico cristiano ebraico attivo dal 1980 in molto bene merito. Ebbene un dialogo che diventa trialogo. Capiamo perché? Il dialogo ebraico cristiano possiamo dire che ha preso vigore proprio qui parecchi anni fa con il Cardinale Martini. Il dialogo come si è venuto configurando negli ultimi anni è un dialogo triangolare, un triangolo e che è quello forse più problematico. Ma ci si è fatta esperienza e si sta facendo esperienza anche in questo senso. Quindi sta a significare questo dialogo, cercare di comprendere le ragioni degli altri, trovare le radici comuni e oggi penso che parleremo di Abramo come padre comune e soprattutto dell'esigenza di non complicarci la vita o perlomeno farcela complicare il meno possibile da considerazioni politiche contingenti. Milano detta più volte isola felice del dialogo ecumenico e interreligioso, è così? Sì, è così e soprattutto perché probabilmente fa una riflessione seria sul dialogo. Cioè si pone in un'ottica non salottiera ma in un'ottica in cui ci possono essere diverse piattaforme di dialogo. Una piattaforma direi seria la quale noi forse teniamo particolarmente che è quella un po' di un confronto teologico, spirituale, sui simboli e sui valori delle religioni per come possono aiutarsi fraternamente. Poi c'è anche una piattaforma più di carattere sociale e quindi che va ad affrontare delle tematiche più specifiche come la povertà o come l'integrazione. E ancora per noi una segnalazione sul secondo dei quattro incontri del Cardinale Scola con le realtà sociali che vi abbiamo indicato prima. Ebbene, il secondo incontro si terrà giovedì 29 settembre al Museo Diocesano di Milano che è in corso di porta ticinese 95, sempre dalle ore 18 fino circa alle ore 20. Il Cardinale Scola incontrerà il mondo della cultura e della comunicazione. Vi accenno che gli altri e ultimi due incontri saranno il 4 ottobre per il mondo politico e le istituzioni, scusate il 6 ottobre per il mondo politico e le istituzioni, il 4 ottobre invece per il lavoro. Ma insomma ve ne daremo notizia naturalmente in maniera tempestiva all'approssimarsi di questi importanti eventi. E ora, visto che abbiamo citato il mondo della cultura e della comunicazione, la presentazione di un libro con grandi giornalisti dedicato al Cardinale Carlo Maria Martini. Noi c'eravamo. In una manciata di giorni fa, al solo risuonare del suo nome citato con gratitudine dal Cardinale Tettamanzi nel saluto alla Diocesi, in Duomo è scoppiato un applauso, tanto prolungato quanto sincero. Ed è così sempre quando si parla del Cardinale Carlo Maria Martini, perché l'affetto e la riconoscenza per un magistero e un uomo tanto significativi non diminuiscono con il tempo. Anzi, e lo si è visto alla presentazione, affollatissima presso il Centro San Fedele, del volume Storia di un uomo, edizione Ancora, che il vaticanista Aldo Maria Valle ha dedicato all'arcivescovo emerito di Milano, quale il gesuita Martini è dal 2002, quando dopo 22 anni di episcopato si è ritirato prima a Gerusalemme e oggi a Gallarate. Le prime cerimonie pubbliche purtroppo furono funerali di Walter Tobagi, del Giugice Galli, uccisi dalle Brigate Rosse. È stato da subito il punto di riferimento di tutti e non dimentichiamo poi la cattedra dei non credenti. E se per padre Sorge, anche gli gesuita, Martini è un uomo del dialogo e della speranza, in un'assoluta libertà di parole e di pensiero, per Ferruccio De Bortoli, che ne ha richiamato le preziosi risposte ai lettori che appaiono sul Corriere della Sera, il cardinale rimane punto di riferimento in un'epoca di smarrimento morale, ieri come oggi. C'era questo signore che ci apparve all'inizio come uno studioso, un po' distaccato, un po' severo, a volte persino Arcigno che invece sapeva dare speranza ad una città nel momento più buio del terrorismo. Quindi la risurrezione c'è stata sotto tutti gli aspetti, quindi dobbiamo molto anche agli anni che il cardinale Martini ha passato a Milano. E così il pensiero va a un vero padre, figura esemplare della fede per chi è credente e di concreta passione civile per chi non lo è. Anche perché, come ha detto sempre lo stesso Martini, la differenza non è tra credenti e non credenti, ma tra pensanti e non pensanti. Rimaniamo in ambito culturale con Leonardo da Vinci, genio anche dell'astronomia. I disegni ora in mostra all'Ambrosiana in una rassegna davvero splendida ce lo svelano. Vediamo. Studiava osservando il moto del cielo, il corso della luna e gli andamenti del sole. Così scriveva già nelle sue vite dei più eccellenti pittori, scultori e architettori, il Vasari. E in effetti anche se l'attività di astronomo di Leonardo non è tra gli ambiti più conosciuti in cui si esercitò il genio Vinciano, è certo che i disegni di astronomia, appunto di cosmologia del Codice Atlantico, da questi giorni fino all'11 dicembre prossimo, in mostra all'Ambrosiana e presso la Sagrestia del Bramante di Santa Maria delle Grazie, rappresentino molto di più che una rassegna per addetti ai lavori o esperti. Infatti l'attuale esposizione, la nona del ciclo che renderà visibili tutti i 1119 fogli del Codice entro il 2015, è un modo interessante per molti versi curioso di avvicinarsi al mondo dell'osservazione cosmogonica leonardesca, visione spesso impropria e non sistematica, ispirata più a principi di caos e complessità che in realtà gerarchicamente ordinate, ma con alcuni lampi di genio. La sua è una visione che vede non tanto la Terra al centro dell'universo quanto il Sole, ed è famosa appunto la sua asserzione il Sol non si muove, quindi ha una visione diciamo eliocentrica del cosmo più che della Terra. E poi c'è appunto la sua osservazione che precorre Galileo di cento anni sul Lumen Cinerium della Luna, che è stato il primo a formulare solo sulla base della sua capacità visiva. Convenzione, quelle leonardesche che centrate specie sulla Luna tuttavia segnano la riflessione rinascimentale, anche per la presenza di disegni riferibili più all'epoca giovanile e di scritti sorprendenti, come il foglio che rappresenta Terra, Luna, Venere, Mercurio e Zodiaco, documento di eccezionale rarità, risalente al 1478. Ci sono delle cose precopernicane, soprattutto negli appunti del Codice Atlantico di Leonardo, soprattutto per quanto riguarda il Sole, perché anche nel manoscritto F il Sole veramente diventa il centro di tutte le cose, la fonte di luce e di calore per tutto l'universo. E quindi, pur mantenendolo in una posizione relativa rispetto al geocentrismo che Leonardo è eredita alla tradizione aristotelica, però il Sole aumenta la sua importanza. Bene, siamo giunti al momento ora della parola di Dio, di un breve commento che è affidato a Monsignor Mario Del Pini, Vescovo Ausiliare. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, quando la polla vide che il Signore Gesù non era più là e nemmeno i Suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Caparnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là del mare e gli dissero, «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro, «In verità, in verità, io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di Lui il Padre, Dio, ha messo il Suo sigillo». Gli dissero allora, «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?» Gesù rispose loro, «Questa è l'opera di Dio, che crediate in Colui che Egli ha mandato». Allora gli dissero, «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai?» «I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo». Rispose loro Gesù, «In verità, in verità, io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti, il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero, «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro, «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai». Come quando ci sono i saldi, la gente si mette in coda, la gente accorre alla ricerca di un buon affare. La gente si comporta come il cliente, entra nel negozio, cerca un prodotto che piace, lo compra a un buon prezzo e se ne va a casa contenta, la vita non cambia, però il guardaroba si arricchisce di un pezzo in più. Ecco, la gente che cerca Gesù, cerca forse Gesù come il cliente che cerca la buona occasione. Andiamo a vedere questo tale che moltiplica il pane, andiamo a vedere questo tale che compie segni prodigiosi. Gesù dunque si incontra con questa folla che lo cerca perché ha mangiato il pane. La vita del cliente non cambia quando ha comprato un prodotto a buon prezzo e non vuole cambiare. Il cliente sente sempre un fastidio quando il discorso si fa troppo personale e invece Gesù vuole proprio porre la questione non sul prodotto che deve vendere ma sulla vita di chi lo cerca. Il cliente vive di una vita già scontata e si prepara a morire di una morte già prevista e non vuole fare discorsi troppo seri, affrontare argomenti troppo complicati. Invece Gesù proprio questi argomenti vuole affrontare, vuole sapere se tu vuoi vivere o morire, se cerchi il pane della vita o soltanto la soddisfazione di un desiderio, di un capriccio, di un bisogno. Ecco, noi vogliamo compiere l'opera di Dio, credere in colui che il Padre ha mandato e nutrirci di un pane che dà la vita eterna, che cambia la nostra vita nella vita di Dio. Bene, siamo giunti alla conclusione del nostro programma. Io vi ricordo che torniamo giovedì prossimo alle 18.30. Vi do appuntamento però domenica 25 per l'ingresso del Cardinale Scola su Telenova News, canale 664 del Digitale Terrestre, dalle ore 13.30 per la diretta. Arrivederci, grazie di essere stati con noi. Questo programma vi è stato offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.